Viene da ridere, siccome vedo e mi mandano delle cose, allora questa cosa leggo sul computer, gli hanno chiamati casi covid-like, si tratta di pazienti negativi al tampone con sintomi sfumati ma un'attacca rivela polmoniti interstiziali, gli hanno chiamati covid-like, i like, vabbè, e poi c'è un amico che mi segnala un negozio a Bologna dove c'è scritto fuori dalla vetrina ma allora è solo per gli inglesi, cioè va bene che ci deve essere anche per i tuoi, ma per gli italiani no, non vengono cagati, assolutamente no, solo per gli inglesi. Allora, sono d'accordo con questo mio amico che dice, allora va bene, lasciamo perdere gli squassi dal stesso uomo zin zin zin, però a questo punto speriamo in un asteroide, veramente un asteroide.